Dopo sette anni il Tribunale di Vasto riconosce la malattia professionale a un operaio dipendente della Sevel. La sentenza, molto importante in materia, è del novembre scorso, ma è solo dal primo aprile, cioè una volta diventata esecutiva, che sono state liquidate tutte le spettanze dovute ai familiari del lavoratore. A promuovere il contenzioso, il patronato inca Cigelle di Chieti, il direttore Giuseppe Visco ne ricostruisce la vicenda. Nel 2015 si rivolge a noi l'ex iniziatore della Sevel, che aveva purtroppo contratto un cancro ai polmoni. Di lì a poco, purtroppo, la malattia ne ha determinato il decesso. Di conseguenza l'Inail non aveva riconosciuto la malattia professionale al proponente. Ma questo perché? E questo perché non riteneva che ci fosse un rischio lavorativo che determinasse l'insorgere di quella patologia. E imputava principalmente il problema del cancro ai polmoni al fatto che il richiedente era un tabagista. Mentre ormai vi è una diffusa giurisprudenza in materia che non esclude il riconoscimento della malattia professionale per il cancro ai polmoni, anche se la persona è tabagista. In realtà qui siamo in presenza di un'esposizione al rischio che è riferita a anni dall'86 al 96, quindi anche un periodo molto lontano. Ma parliamo però di patologie lungolatenti, cioè che si possono sviluppare anche molti anni dopo l'esposizione al rischio. Se la sentenza è destinata a fare giurisprudenza, sette anni sono obiettivamente troppi, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia. Sì, tanti anni, troppi, forse anche indollerabili per chi aspettava questo tipo di riconoscimento. Ma alla fine abbiamo ottenuto il risultato e abbiamo dato per quanto possibile, abbiamo ridato dignità a una famiglia che purtroppo a causa di questo evento tragico ha vissuto in questi sette anni veramente una situazione difficile. Ci sono altri casi che potrebbero emergere nei prossimi mesi simili, non dico riguardo alla Sevel, ma magari riguardo ad altre aziende? Vedremo, nel senso che stiamo diffondendo notizie in lungo e in largo. Se ci saranno altri casi alla Sevel non lo sappiamo ancora. Nell'ipotesi in cui ci sono casi di questo tipo invitiamo ovviamente le persone o i familiari delle persone che purtroppo sono decedute a rivolgersi presso i nostri uffici. Questa sentenza rappresenta un importante precedente per tutti quei lavoratori esposti a sostanze cangerogene che hanno contratto un cancro di polmoni. Un'ultima cosa, quando si affronta un processo è chiaro che ci sono anche dei testimoni. È stato facile o difficile trovarli? Non è stata una questione facile, ma non lo è quasi sempre quando si tratta di fare cause di malattia professionale perché c'è sempre il tumore delle ritossioni da parte del datore di lavoro nei confronti dei testimoni. Anche se, come è stato dimostrato in questo caso, a volte sono proprio timori infondati.